Siglata questa mattina la convenzione tra Regione e GAL Terreverdi-Terramane. Si conclude così un percorso importante che erogherà 27 milioni di euro a disposizione degli otto GAL abruzzesi per il piano di sviluppo rurale. I GAL sono gruppi di azioni fondamentali previsti nel piano di sviluppo rurale. Noi abbiamo messo a disposizione 27 milioni di euro per gli otto GAL abruzzesi. Oggi firmiamo finalmente la convenzione con il GAL cosiddetto Terramano e così possono iniziare una serie di attività sul territorio, di promozione, di comunicazione ma soprattutto di sostegno alle comunità locali. Qual è l'importanza del nuovo GAL per il territorio Terramano? È una scommessa innanzitutto soprattutto perché vogliamo mettere in campo un'idea progettuale particolare che può essere scontata ma non lo è. Quella di favorire le aggregazioni, la partecipazione in comune tra aziende principalmente e anche tra enti. Queste sono cose che si dicono sempre e poi nel concreto non si attuano. Noi vogliamo fare un'azione culturale di informazione nei confronti del tessuto produttivo dell'area e favorire queste aggregazioni dando contributi. Quindi emettendo bandi per chi effettua delle fasi di lavoro in comune.